Da questa mattina nel Giardino dei Giusti, che si trova in Via Lora a Palermo, c'è una nuova targa. È quella che ricorda Giuseppe Caronia, una delle tante storie che risalgono al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Una storia che parte dalla Sicilia, esattamente da San Cipirrello. Proprio del comune in provincia di Palermo era originario il medico. Dopo alcune esperienze a San Francisco e a Napoli, nel 1935, Caronia fu trasferito a Roma come direttore del reparto di malattie infettive e degli ospedali riuniti. Qui salvò un centinaio di vite, nascose numerosi perseguitati politici ed ebrei, spacciandoli per medici, paramedici e pazienti ricoverati. Non si riteneva un eroe, quindi? Era modesto. Praticamente non si vantò mai di tutte queste cose. In effetti lo era, un eroe. Però non si è mai saputo bene la cosa, perché lui non parlò. Poi successivamente alla guerra, quando lui riprese il suo posto nell'amata clinica della Sapienza, prima fu prorettore, poi magnifico rettore, scrisse un libro. Ma dietro ogni storia di eroismo, spesso silenzioso, non c'è mai una singola persona. Io penso che ci saranno in Europa ancora milioni di giusti che non si sono fatti sentire, che hanno considerato il loro operato normale, perché loro si sentivano persone normali.